Grande successo per la prima serata del Mojoka, il festival degli artisti di strada a Mojo della Civitella. Un evento dedicato a giovani e meno giovani, ma soprattutto alle famiglie dai bambini, con l'angolo dei laboratori che si svolgono tutti i pomeriggi per tutta la durata dell'evento. Un folto pubblico, ieri sera al taglio del nastro, ha invaso l'antico borgo per assistere ai numerosi spettacoli inscenati nelle caratteristiche piazze viuzze di Mojo, un borgo ormai molto noto oltre che per gli scavi archeologici, anche per questo festival che è diventato l'abitù estivo dei tantissimi che vogliono vivere il sano divertimento all'insegna dell'allegria e dello stare insieme. Tante foto ed un enorme 18 sulla fontana della piazza principale del paese per festeggiare un Mojoka ormai maggiorenne che compie 18 anni di attività e di pieno successo anche per i numerosi servizi offerti all'accoglienza dedicata. Il servizio è pensato per i visitatori che hanno difficoltà a raggiungere il Mojoka riservando parcheggi dentro l'area festival per permettere alle persone con diversa abilità o comunque in condizioni di necessità di godersi il festival avendo la propria auto a pochi metri. Si può richiedere il pass inviando una mail a servizi chiocciolamoyoka.it oppure un whatsapp al 351 151 2549. Un applauso al poliedrico Angelo Dorsi, il presidente dell'associazione Mojoka, al sindaco di Mojo Enrico Gnarra che ha saputo sposare e sostenere l'evento e dai tanti supporters e collaboratori che si sono prodigati non solo per la buona riuscita del festival ma anche per la pulizia, l'ordine e la compostezza presenti ad ogni manifestazione. Il Mojoka Festival continuerà fino al prossimo 12 agosto con tanti nuovi spettacoli di noti artisti di strada per lasciare tutti incantati con esibizioni di acrobazie e mozzafiato e con l'angolo dedicato alle foto ricordo di Mojoka ed altre interviste in tv con Rete7. Questa sera special live ai nostri microfoni con l'addetto stampa Antonio Alario ed il piccolo Gerardo che ci faranno conoscere tutti i segreti degli artisti presenti. Grazie per la visione!